L'operazione è stata chiamata Promise Land, terra promessa, quella che forse immaginavano e sicuramente speravano di trovare le giovani migranti nigeriane che hanno attraversato il mar Mediterraneo per arrivare in Sicilia, invece l'unica promessa era fatta di botte, soprusi e prostituzione. La squadra mobile di Catania, dopo una lunga e complessa inchiesta con la direzione di stretto le antimafia, cominciata quando i migranti tre anni fa sbarcarono a Catania dalla nave ONG Aquarius, ha chiuso oggi il cerchio su un gruppo criminale specializzato nella tratta di esseri umani. Sono in corso diversi arresti in tutta Italia, accertate numerose vicende di tratta che hanno come vittime giovani donne nigeriane sfruttate. Lo sbarco a Catania risale al 7 aprile 2017, due giorni prima l'Aquarius, nave all'epoca gestita da SOS Mediterranea e Medici Senza Frontiere, aveva preso a bordo 432 persone salvate nel Mediterraneo centrale in quattro diverse operazioni di SAR, ricerca e soccorso, condotti assieme alle navi Sea-Watch 2 dell'omonima ONG tedesca e Phoenix della Maltese MOAS. Dieci le persone arrestate, cui sono contestate anche le aggravanti della trasnazionalità del reato e di aver agito mediante minaccia attuata attraverso riti voodoo. Grazie. Grazie. Grazie.